Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sono ragazzi emozionatissimo perché ha un Fritzbox 6820 LTE tra le mie mani. Un prodotto ragazzi eccezionale. Eccezionale perché ha un'interfaccia grafica che è da manicomio. Mando la sigla, torniamo sempre qui con una prima parte dove vi spiego un po' questo prodottino, poi andiamo a fare un breve unboxing e poi andiamo a vedere l'interfaccia grafica di questo prodotto. Sigla! Eccoci qua ragazzi. Fritzbox 6820 LTE. Appunto un prodotto che vi permetterà tramite l'inserimento di una sim all'interno del prodotto da sotto dopo nella parte dell'unboxing, ve lo farò vedere con più precisione, vi permetterà di navigare sia in UMTS quindi fino a una velocità di 42 Mbps in questo caso, quindi un ottimo modulo radio anche per la parte di UMTS. Abbiamo l'LTE con la banda 20, quindi la banda 800 che non è diciamo così comune avere. Poi abbiamo la banda 850, la banda 900 e così via. Le abbiamo praticamente tutte fino a 150 Mbps. quindi è una categoria dell'TE4. Abbiamo poi una porta Gigabit Ethernet nella parte posteriore, wireless fino a 450 Mbps. Se l'ho già detto, l'ho ripeto un'altra volta. La possibilità di un'interfaccia in multilingua, compreso l'italiano, quindi c'è anche l'inglese, c'è anche il tedesco, ovviamente perché la casa è tedesca, c'è anche il francese, c'è anche il polacco, c'è lo spagnolo e così via. Un prodotto che nella parte posteriore, oltre ad avere la porta Gigabit Ethernet, ha anche la possibilità di avere due tastini che servono, uno, quello del Wi-Fi per spegnere la connessione wireless, oppure quello del WPS nel momento in cui mi necessita connettere un dispositivo con il push and connect. Penso a un range extender, penso a uno smartphone, nel momento in cui non si conosce la password, la password e così via. Andiamo ad analizzare un po' la confezione di vendita di questo prodotto. Vi faccio vedere un po' nella parte frontale della scatola, abbiamo tutte le varie specifiche e dietro abbiamo la possibilità di vedere sia le bande del 3G, 4G, qui, no scusate, non parla di bande, ma qua parla invece delle bande per quanto riguarda la connessione LTE. Porta Gigabit Ethernet, come vi dicevo, il Wi-Fi 450, ma andiamo ad aprirlo immediatamente e vi faccio vedere all'interno della confezione. 68 ventilati, è piccolino, guardate tanto quanto la mia mano, quindi lo potete mettere e nascondere un po' dove volete. Abbiamo l'alimentatore che esce, ve lo dico, in questo momento 12V 1Ah, la macchina non mette a fuoco ma metto a fuoco io, eccole qua le specifiche tecniche dell'alimentatore. Cavo ovviamente che supporta la Gigabit Ethernet, qui andiamo a vedere nella parte posteriore abbiamo il tastino di wireless che serve per spegnere la rete, abbiamo poi la possibilità del tastino di VPS e qui abbiamo la porta LAN Gigabit Ethernet per collegare per esempio un PC oppure uno switch dare connettività a quante persone voi volete, oppure potete anche collegare per esempio degli access point e dare connessione wireless anche ad altri device molto più lontani da questo prodotto. Qui i led che danno a livello indicativo il segnale ricevuto dalla BTS mobile, quindi il segnale ricevuto dell'UMTS o del 4G, 3G, questo è il led della wireless, quindi quando spegnete la wireless questo si spegne e questo è il led del power che rimane sempre acceso, se non è acceso c'è qualche prove più. Qua sopra in area alto vedete che ci sono delle grate, serve appunto per far sì che il prodotto di fatto non scaldi e sotto abbiamo l'ingresso per la SIM 3G, 4G che vi permetterà appunto di navigare, SIM che si inserisce con il formato standard, quindi non con il formato micro, mini eccetera eccetera, nano e quant'altro, o con il formato standard, fa un click quando entra, fa un click quando esce e quindi riuscirete a capire se è stata inserita correttamente, ad esempio se io la inserisco al contrario di fatto non fa quel click e di conseguenza si riesce a capire banalmente che il prodotto, scusate che la SIM non è stata inserita in maniera corretta. Qui ci mettete l'alimentatore e questo siccome non va a posare su tutto il pianale, il cavo riesce a uscire in maniera egregia da sotto e quindi non viene di fatto struito. Andiamo a scoprire l'interfaccia di questo prodotto che è davvero eccezionale, vi permetterà di fare tantissime tantissime cose. Scopritela insieme. Ok ragazzi, adesso siamo loggati all'interno del Fritzbox 6820 LTE, come vedete qui c'è la versione di OS, la 6.83 che ad oggi 14 maggio 2017 è l'ultima uscita. Allora, prima piccola ma grande premessa, una volta imparato un qualsiasi Fritzbox li avete imparati praticamente tutti, perché la struttura dell'interfaccia è la medesima. In basso a sinistra abbiamo la modalità standard, quindi quando vedete modalità standard siete di fatto in modalità standard, che è diciamo la modalità più semplice e poi avete per i più smanettoni la modalità avanzata. Un contatore online, questo è eccellente perché potete definire anche una tariffa, utilizzare le informazioni sulla tariffa, la tariffa a volume, quindi 500 MB al mese, oppure una tariffa a tempo. La priorizzazione, quindi avete la possibilità di ad esempio priorizzare la PS4 e quindi renderla più veloce, oppure rendere più lenti tutti i dispositivi tranne che la PS4, quindi priorizzare un dispositivo oppure rendere lenti gli altri e priorizzare quello. Insomma avete la possibilità di 3 milioni di cose. La possibilità di abilitare le porte, l'OPNP, se abilitarlo eccetera, i servizi Fritzbox con il DDNS gratuito, lo configurate qui e poi qua, al posto che venirvi fuori l'indirizzo IP pubblico vi verrà fuori l'hostname, in modo tale che quando dovete gestire le telecamere l'indirizzo IP sarà sempre quello. E questo è fondamentale per impianti di videosorveglianza come vi dicevo, ma anche per allarmi, oppure se avete un NAS, insomma per tutti quei dispositivi che hanno necessità di essere gestiti da remoto, anche una VPN penso. E qua avete la possibilità, se avete un DDNS che avete pagato e magari avete acquistato il Fritz da poco, non conoscevate il servizio gratuito, potete continuare ad utilizzarlo. Quali sono compatibili tutti? Perché potete definirlo anche voi manualmente. La possibilità, come vi dicevo, della VPN, VPN con LAN to LAN, oppure una VPN client to server, oppure un accoppiamento a un aziendale, fantastico. Potete abilitare l'accesso ospite, qui caricate una vostra immagine, che gli utenti una volta collegati alla rete ospiti vedranno, qui definite le condizioni, ciao, tutti gli utenti che saranno collegati alla rete vedranno la vostra immagine, le vostre condizioni e potete anche definire un URL redirect. Cosa vuol dire? Che gli utenti una volta accettate queste condizioni, cliccheranno su accetta e verranno rilanciati all'indirizzo IP che voi qui scriverete. Questo è il QR code che potete volendo stampare e rendere disponibile per tutti gli utenti che si vorranno collegare alla rete ospiti. Potete anche metterla non codificata, quindi aperta. La registrazione all'accesso ospite è permessa solo una volta accettate le condizioni di utilizzo oppure andare a vedere tutte le informazioni riguardo alla sicurezza. Il Fritz vi dice cos'è che non è sicuro nella vostra rete. Avete le guide interattive, quindi ogni volta che voi non conoscete una voce, non sapete cosa fa, potete leggere tramite la guida cosa serve di fatto questa funzionalità. L'aggiornamento, tutto in maniera automatica. C'è un server in Germania che aggiorna tutti i fritz. Potete cambiare la regione, la lingua, oppure le opzioni internazionali per quanto riguarda il paese. Potete mettere il paese Finlandia ma avere la lingua in italiano, perché io abito in Finlandia, quindi utilizzo l'infrastruttura mobile di Vodafone Finlandia, ma di fatto risiedo in Italia e quindi so l'italiano e l'interfaccia mi rimane in italiano. Ma il software si aggiorna, cioè si adegua alla normativa vigente in Finlandia. Gli assistenti, qui abbiamo la possibilità di vedere tutto del fritz, quindi capire come funziona la sicurezza del fritz. Vi dicevo che il menu è interattivo, quindi qualsiasi menu, e intanto colgo l'occasione per farvi vedere questo menu della rete mobile che è eccezionale, avete per esempio la possibilità di dare dei feedback. è interattivo, ad esempio se avete delle interruzioni occasionali. Questo menu è, vi dicevo, eccezionale, perché vi dà una mirriade di informazioni. Innanzitutto vi dice la distanza, ovviamente approssimata, non credo che sia corretta, della BTS. Io ho Vodafone, 2-2-2 sta per Italia, 10 è l'MNC di Vodafone, quindi 2-2-2-10. In poca parola ti sta dicendo Vodafone Italia. Avete il numero della cella, il tipo di collegamento, quindi in LTE, e ovviamente è dato più importante, 75 Mbps in download e 50 Mbps in upload. Qui ti dice che il collegamento è col diversity, quindi c'è un solo canale, ecco, ora c'è il Mimo. Vedete? Ha proprio switchato adesso sulla rete quella con il Mimo, quindi c'è un canale in trasmissione e uno in ricezione. Questo prodotto è eccezionale. Vi dice IDB dell'antenna 1 e dell'antenna 2 del Fritzbox, la versione del modem e le lencoreti, vedete che ne abbiamo due, abbiamo l'800 e la 1.800, noi adesso siamo collegati in questa. Abbiamo anche la possibilità di vedere quanto è in uso la banda e che ampiezza ha. Più ampiezza, più throughput, più velocità. L'intensità di segnale, la qualità, la frequenza, poi la cella ID e la distanza, come vi dicevo, la vedete da qua. Andiamo a provare con un'altra banda di frequenza. Ok, proviamo con la banda 7, quindi la banda da 2600 MHz, scusate. Ecco, vedete che con la banda da 2600 MHz abbiamo il Mimo, quindi abbiamo un canale... ah no, ritorno in insiso. Ok ragazzi, ci siamo connessi con la banda da 1800 MHz e un 20 MHz di ampiezza. L'elenco reti l'avete qui, vedete? Abbiamo la 800 MHz che è in uso molto poco, però ha un'ampiezza di banda misera. Quindi io direi che in questo caso, nella mia situazione, ho la banda 2006 oppure la 1800. Ora siamo collegati in 1800. Abbiamo la possibilità di vedere in rete mobile tutta una miriade di informazioni. Quindi la ricezione... E qui, veramente, è una figata. Perché possiamo fare una cosa figosissima. A via guida di allineamento, noi, in base a come spostiamo il fritz, capiamo se l'intensità di segnale aumenta o se l'intensità di segnale diminuisce. In questo modo avrete la possibilità di vedere realmente dove posizionarlo. Un segnale con attenuazione a meno 109 è peggio di un segnale con un'attenuazione da meno 50. Quindi, regolatevi un attimino. Fermate la guida di allineamento e è a posto. Potete usare anche una versione di modem precedente. Questo cosa implica? Quale beneficio può darvi? Vi può dare o un beneficio di avere maggiore velocità, oppure, per esempio, di avere un maggior throughput. Nel senso che magari lui negozierà in MIMO e non in SISO, non in Diversity. Quindi in quel caso sarebbe meglio. Ovviamente in dati d'accesso avete l'opportunità di selezionare le bande, ma nel momento in cui andrete a selezionare l'OMTS, non vi verrà fuori la possibilità di selezionare la banda in OMTS. La cosa in vera banda vi verrà fuori nel solo nel momento in cui andate a selezionare l'ETE. E, avendo tirato via OMTS e GSM, questo implica che la connessione rimanga sempre collegata o sulla banda da 1.800 in LTE, oppure su quella da 2.600 sempre in LTE. In questo caso potete tenerne solo una, in quel caso rimane sempre fixata su quella e quindi evita di fare ping pong, per esempio, tra le due reti. E poi feedback, che vi dicevo prima, per le interruzioni occasionali, interruzioni frequenti, oppure se non vi riuscite a collegare. Per quanto riguarda una piccola cosa delle reti WANTS, avete la possibilità, come al solito, di vedere l'inquinamento delle reti, eccetera, eccetera. Ma questo l'avete anche su tutti gli altri Frizz, e questa è un po' la forza del prodotto Frizz. Io per questo video credo di aver dato tutto, io vi ringrazio, se ci sono domande fatemele sotto nei commenti. Niente, ciao e al prossimo video!